... Amici sportivi, buonasera. Chi ha fatto 13 stasera si porta a casa mezzo miliardo. Auguri. Sono stati 21 in tutta Italia, ce l'hanno comunicato adesso al Totocalcio. 498 milioni per la precisione, ma vedremo più avanti. Parliamo adesso del calcio vero, cioè del calcio giocato. Ancora un turno pro-Napoli. Proprio nella prima domenica del cosiddetto trittico di ferro, con Roma e poi Inter e poi Juventus, avversari diretti dei partenopei una domenica dopo l'altra. Il Napoli oggi, confermando l'ottima vena e impostazione, ha respinto l'attacco della Roma, che ha ribadito l'impressione favorevole sul proprio conto. Cinque punti di distacco sempre e il pareggio in questi casi è avvantaggio di chi sta sopra, il Napoli appunto. Non basta. La Roma è sola all'inseguimento, diciamo così. Milan, inopinatamente a Brescia superato, e Juventus battuta a Milano nel galà di tradizione con l'Inter meritevole, hanno ora sei punti dal Napoli. Domenico comunque c'è Inter-Napoli. Stando alla disposizione mostrata oggi dalle due squadre, dovrebbe essere un bello spettacolo. Dei nostri amici, cioè amici di 90esimo minuto, che seguono in diretta la trasmissione da New York, sul canale in lingua italiana, ci segnalano che diverse decine di appassionati verranno proprio dall'America per vedere questo incontro. Oggi impressionante ancora il 6-2 con cui l'Avellino ha vinto a Udine. Gli Irpini sono sbarcati al centro classifica. In coda hanno pareggiato in massa. E solo il Brescia si avvantaggia quindi con la sua impresa ai danni del Milan. Da notare fra questi pareggi di coda, quello miracoloso, diciamo così, della Fiorentina a Verona con impennate dei classici Diaz e Antonioni. E quello che ha amareggiato il pubblico torinista dei Granata con l'Atalanta a Torino. Schedina. Brescia-Milan 1-0. Como-Ascoli 0-0. Empoli-Sandoria 0-0. Inter-Juventus 2-1. Napoli-Roma 0-0. Torino-Atalanta 0-0. A Udine-Avellino-Udinese 6-2. Verona-Fiorentina 2-2. Bari-Lecce 2-0. Lazio-Cremonese 2-0. Messina-Parma 1-1. Ad Ancona-Reggiana-Ancona 1-0. Casale-Pro-Vercelli 1-0. Altri di B. Cagliari-San Benedettese 1-0. Campopasso-Arezzo 1-0. Cesena-Pisa 1-0. Genova-Vicenza 2-0. Modena-Catania 1-0. Taranto-Pescara 1-0. Tiestina-Bologna 1-0. Passiamo alle classifiche. Classifica della Serie A. Napoli 34-0. Roma 29-0. Inter-Mila-Juventus 28-0. Verona 25-0. Sampdoria 23-0. Avellino-Ecomo 20-0. Torino 19-0. Empoli 18-0. Fiorentina 17-0. Brescia-Edascoli 16-0. Atalanta 14-0. Udinese 8-0. Passiamo adesso alla classifica dei cadetti. Messina-Eccolo 29-0. Cremonese-Cesena-Genoa 27-0. Pisa-Parma-Pescara una partita in meno. Il Lecce 26-0. Modena 24-0. Bologna-Tiestina-Bari 23-0. Arezzo 22-0. Lazio-Catania-Vicenza 20-0. San Benedettese 19-0. Tarate-Campobasso 18-0. Con una partita in meno il Cagliari a 16 punti. Ed ecco le famose quote delle quali abbiamo accennato in apertura. Ecco i tredicioni 498.740.000 lire. 12-11.407.000 lire. E adesso linea subito a Luigi Recco. Napoli-Roma 0-0. A te la parola Luigi. Il Napoli dovrebbe averne fatto sulla carta 4 di 13. Viste che ci sono stati questi 18 volte 100 milioni di incasso. Comunque il Napoli ha scelto la sua inseguitrice. E quindi comincia ad amministrare con saggezza. Ma forse senza tanto entusiasmo da parte di chi vuole i gol. Il suo vantaggio. Primo tempo molto contenuto. La Roma abbastanza forte. E' un Napoli estremamente guardingo. La Roma al ventunesimo tenta l'affondo con Gerolin. Che supera i difensori e impegna Garella. Cinque minuti dopo su una rimessa ai sviluppi Caffarelli. Sulla destra supera Nela. Entra in area. E il suo cross viene fermato da Righetti. Ma un primo tempo abbiamo detto molto contenuto. Con un enorme lavoro al centrocampo. Ve ne dà una occasione. Ve ne dà una visione questa immagine scelta da cento mani. Bagni che sembra quasi Maradona. Cade, si rialza, dribbla. Riesce a passare tra i centrocampisti avversari. E poi niente di fatto. Perché la partita è stata tutta centrocampo. Roma ancora in attacco a 43esimo. Su questo cross di Gerolin. Testa di Agostini. E Garella prontissimo in parata. Una parata classica. Con le mani, scusateci. Ma Garella, voglio sapere, di piede. Secondo tempo. Il Napoli cambia faccia. Per dieci minuti assedia la porta della Roma. Bagni sbaglia questo gol. E immediatamente dopo, un minuto e mezzo dopo, Romano riesce a far filtrare questa palla in aria con l'aiuto di Bagni. Serve Giordano che dà in mano al portiere Tancredi. Bravissimo Tancredi oggi sui tiri che ha dovuto operare. Forte partita di De Napoli che serve Maradona, il quale di testa si eleva, avete visto, e riesce a far trovare Giordano sulla palla. Ma Tancredi è altrettanto pronto. E siamo ancora all'ottavo minuto del secondo tempo. Assistito Giordano da Maradona, ma Giordano sbaglia. A porta vuota. A solo di Maradona. Siamo a metà del secondo tempo. Conte bravissimo, ma Maradona, come vedete, inganna tutti i difensori. Serve Giordano. E Giordano, ancora una volta, non trova l'angolo giusto. Atterrato anche Bagni. Vabbè, cosa da moviola. Ultima azione della Roma. Una Roma che nel secondo tempo ha dovuto subire il Napoli. Ma un Napoli che non è stato capace di andare a fondo. E come avete visto, su questo cross di Nela, Giannini era pronto, ma è stato altrettanto pronto. Garella. Che cosa dire? Viola ha detto, mi sta bene aver guadagnato un punto. E mi sa che il punto l'ha guadagnato anche il Napoli. Noi dobbiamo dire, quello che abbiamo detto altre volte, i destini del Napoli si realizzano meglio all'estero. L'estero prossimo per il Napoli è Milano. Arrivederci. Ciao. Passiamo adesso all'Inter che ha superato la Juventus per 2 a 1. Vedo già pronto Gianni Vasino. Sì, questa volta sono rientrato in tempo. Tranquillizziamo tutti gli aspettatori. E quindi parliamo di questa vittoria franca dell'Inter che è riuscita a contenere e a mettere in grosse difficoltà durante tutto il primo tempo la Juventus. Nella ripresa è partita la Juventus, a sua volta l'Inter è riuscita a contenerla molto bene e poi l'ha traffitta ancora in contropiede. Un contropiede che però ha preso consistenza anche perché l'Inter non è mai riuscita a chiudersi completamente in fondo. Avete visto Pelé che era in tribuna per ricevere un importante premio e avete visto anche Malgioglio disteso a terra all'inizio della partita. Poi vedete subito un colpo di testa di Altobelli. Servizio di Calcaterra in area e Altobelli ancora una volta è preceduto. Qui è ancora Altobelli che stampa sulla traversa, poi recupera Fanna e manda fuori di un soffio. Questo per darvi la sensazione dell'importanza degli attacchi dell'Inter. Garlini si vede bloccato alla rovesciata e qui è Altobelli che fa da torre per Fanna che cambia passo e di sinistra infila. È l'1-0 con il quale si chiude il primo tempo. Esulta Fanna e si va alla ripresa con la Juventus che parte in avanti. Serena respinge malamente ed è costretto Tacconi alla parata a terra. Poi insiste la Juventus con Platini a mezzo servizio. C'è una grandissima mischia in area e Briaschi in rovesciata sfiora il 7. Si vede sull'altro fronte Matteoli. Tacconi non trattiene e Garlini infila il 2-0. Vano il tuffo di Favero. Ancora Matteoli in bella videnza. Recupera Briaschi dal fondo, interviene Serena ed è il 2-1. E su queste immagini ti restituisco la linea Valenti. Grazie Vasino. Passiamo adesso allo 0-0 fra Torino e Atalanta. 0-0 fra Torino e Atalanta. Cesare Castellotti. E' definita fra i fischi in partita agonisticamente discreta, non bella tecnicamente. Di azioni ce ne sono state, ma di vere occasioni da gol proprio non se ne sono viste. Il Torino forse con la mente un po' troppo già a Innsbruck e alla Coppa UEFA. Lo 0-0 dunque rispecchia l'andamento dell'incontro. Un punto può andar bene a entrambe le squadre. Vi proponiamo alcune azioni. Ecco qui una dell'Atalanta e Prandelli a concludere a lato. Qui Junior per Kift, pallone per Comi. Anche Comi manda a lato. Altra azione dei Granata, da Sabato a Ferri, poi Cravero, deviazione di Piotti. Alla battuta Junior, una mischia in area. Giampaolo Rossi, Kift, Piotti non trattiene. Prandelli poi libera. Punizione di Magrì, Stromberg a lato. Passiamo alla ripresa. A tratti c'era quasi da addormentarsi. Qui Prandelli, Limido, Stromberg, interviene Piotti che salva in corner. Il Torino, Beruatto, Kift, Cravero e poi Junior che tira sul portiere. Incidenti prima e dopo la partita si sono registrati alcuni feriti lievi. Ho concluso da Torino. E passiamo adesso a Brescia. In coda al Brescia è l'unico che ha approfittato di una vittoria preziosa anche se di misura sul Milan. 1-0. Torino Carino. Buonasera. Diciamo che il Brescia ha messo a segno il colpaccio. Non solo ha battuto per 1-0 il Milan ma ha sconfitto anche la tradizione. Pensate, da 41 anni non riusciva in un'impresa simile. Due punti d'oro indubbiamente per Giorgi. Del Milan che dire. Quello visto a Brescia è certamente la brutta copia di quella bella squadra ammirata nelle ultime settimane. Di quella formazione per intenderci che in cinque partite era riuscita a incamerare nove punti. Evanescente il centrocampo, impreciso l'attacco. E' vero, la formazione di Lidon è stata anche sfortunata ma questa non può essere certamente un attenuante. Avendo il Milan subito a lunghi tratti il ritmo del Brescia. Adesso si può certamente dire, senza tema di smentita, che questo Milan teme le provinciali e troppo spesso soccombe. Vediamo insieme le immagini di questa partita che ha visto gli ospiti andare subito avanti. Qui è di Bartolomei che cerca la conclusione. Virdis per Atli che si è mosso molto bene in aria. Aliboni respinge come può. E poi Gentilini, guardate la sua azione, a farsi pericoloso costringendo Galli a questa parata. Poi ancora un lancio per Atli, il più mobile oggi anche se il suo tiro anche questa volta è impreciso, centrale. E poi siamo al gol. Zoratto per Gritti, perfetto stop e bellissima rovesciata. E' l'1-0. E passiamo al secondo tempo. Il Milan ovviamente non ci sta a perdere e cerca di pareggiare. Prima con Galderisi, poi con Lorenzini sempre di testa. Ma alla fine è il Brescia ad avere ancora una buona occasione con questo contropiede. Bonometti per Gritti, la sua conclusione di poco al lato. Da Brescia ho concluso la linea Paolo Valenti. Va bene, passiamo adesso a 1-0 a 0. D'1-0 a 0, quello fra Empoli e Sampdoria. Ecco, Rolando Nutini. Sì, è stata una partita veloce, una partita molto combattuta, con grande impegno da ambo le parti. La Sampdoria è apparsa più forte a centro campo. L'Empoli ha risentito dell'assenza di Della Monica che è dovuto uscire poco dopo l'inizio della partita per infortunio. Tutto sommato il risultato giusto. Vediamo le immagini che abbiamo preparato. E vediamo subito la Sampdoria in attacco con Mancini. Però Drago è molto bravo. Rimezza in campo la palla. Ecco Vialli, ma non riesce. È bravo Drago anche questa volta a sventare il pericolo. Poi c'è un attacco dell'Empoli con Vertova che conclude di poco fuori. Nel secondo tempo ci riprova la Sampdoria, questa volta con Vierkovo, di poco fuori. E poi successivamente con Briegel. Ecco, vediamo l'azione che conclude Briegel. Anche questa va di poco fuori. Risponde l'Empoli con due azioni. La prima è di Vertova su questo calcio di punizione. Bel tiro e parata di Bistazzoni. E poi l'altra è di Della Scala e anche in questo caso è molto bravo Bistazzoni a parare e a sventare il pericolo. Quindi 0-0 risultato giusto a te Valenti. E passiamo adesso alla goleada dell'Avellino in Friuli. Sentiamo come saranno andate le cose. 6-2 la vittoria degli Irpini. Maurizio Calligaris. 6-2. Oggi non sono comunque un record. La titte tra le due squadre a Udine perché sei anni fa vinse l'Udinese 5-4. Ne furono segnati 9. Ma vediamo ora come si è determinato oggi questo crollo inaspettato dei bianconeri davanti al proprio pubblico. Dopo 5 minuti l'Udinese era in svantaggio. Vedete perde sfortunato Criscimanni, perde un pallone. Benedetti porta in vantaggio l'Avellino. Sono appena trascorsi 5 minuti per l'Udinese. La partita comincia in salita che diventerà poi ripidissima. Ecco il 2-0 con un tiro di Alessandro Bertoni. Siamo al decimo. L'Udinese non è rimasta a guardare qui le proteste dei bianconeri per questo fallo su Edigno. Il portiere Di Leo ha compiuto alcuni ottimi interventi. Ve ne mostriamo uno. Poi al 32esimo il 3-0. Qui non si capisce bene se segna Alessio oppure un autorete di Criscimanni. Il 4-0 lo sigla Schachner al 33esimo. A questo punto per l'Udinese si tratta di salvare la faccia ma non è così facile perché all'inizio della ripresa ecco qui il 21esimo. Il 21esimo dopo 20 minuti il 5-0 lo segna ancora Schachner. Il gol della bandiera lo realizza Chierico al 37esimo 5-1. Ma a questo punto è ancora l'Avellino. Un Avellino molto brillante, veloce, fisicamente a posto. Ecco qui il gol di Benedetti e il 40esimo 6-1. E proprio al 90esimo sarà Collovati a portare a due le reti dell'Udinese. Ecco qui il cross di Bertoni, il colpo di testa di Collovati 6-2. E ho concluso. 2-2, 2-2 invece fra il Verona e la Fiorentina. Vedo già pronto Ferruccio Gard. Ma il calcio dovrebbe essere giocato in piedi e non da seduti. Potrebbe sembrare una cosa alla palissiana. Ma il Verona per capirlo ha dovuto incontrare oggi la Fiorentina. Il Verona infatti ha dominato per 80 minuti, ha segnato due gol. Altri ne ha sbagliati per poco. Mentre la Fiorentina sino ad allora aveva giocato in un modo semplicemente disastroso. Poi cosa è successo? Il Verona appunto o si è seduto, credendo di avere la vittoria già in tasca, oppure la Fiorentina ha tirato fuori una bacchetta magica ed ha potuto pareggiare con Diaz e Antonioni. Vi propongo subito una selezione delle principali azioni di questa partita. Ve ne sono state molte. Qui siamo al nono minuto e vediamo l'inizio della sagra delle occasioni per il Verona. Guardate Rossi come offre la palla a Landucci. 19esimo, vi è una mischia nell'area della Fiorentina. La palla finisce ad Agostini ma il suo tiro viene deviato in angolo. Subito dopo azione Rossi di Gennaro con Pacione che manca ad un soffio la girata di testa. 25esimo, l'unica azione della Fiorentina è uno splendido assolo di Diaz che cerca il gol con un astuto pallonetto ma Giuliani è bravo a deviare. 29esimo, lancio di De Agostini, stiamo per vederlo in area e vi è una mischia. Poi la palla finisce ad Elkier che insacca di testa. 1-0. Ripresa siamo al secondo minuto. Punizione di De Agostini e splendida deviazione di Landucci. Batte l'angolo di Gennaro e Galia insacca di testa. È 2-0. Sembra fatta per il Verona appunto. I toscani rispondono soltanto con questa punizione di Antonioni parata con facilità da Giuliani. E al 14esimo il Verona si rende ancora pericoloso con Elkier e anche questa volta Landucci è bravo a deviare. Al 28esimo azione Maldera dichiara e Diaz insacca con questa splendida girata. 2-1. Al 35esimo avviene l'incredibile. Vi è un tiro da fuori area di Antonioni e Giuliani, forse coperto da Battistini. In fuorigioco si tuffa in ritardo 2-2. Ma le emozioni non sono finite. 39esimo Triciella coglie la traversa. Poi al 42esimo vi è un'altra azione della Fiorentina con Diaz che colpisce il palo. E io restituisco la linea a Paolo Valenti. Dopo questi quattro gol passiamo a uno 0-0 che conclude la Serie A. Como Ascoli, Marco Lucchini. Onesto in definitiva questo 0-0. L'Ascoli ha fatto di tutto per non subire, mentre il Como non è che si sia dannato l'anima per affermarsi davanti al proprio pubblico. Pubblico non ha nascosto il proprio disappunto. Alla fine un punto prezioso per l'Ascoli, mentre i lariani si assestano a centro classifica. Vediamo comunque le azioni principali dell'incontro. Al quinto minuto Todesco per Borgonovo e Pazzagli devia in corner. Al sedicesimo cross di Moz per Borgonovo che però non aggancia la rovesciata. Al ventesimo il primo tiro a rete a Scolano dall'angolo a Carillo, il cui tiro però è a lato. Alla mezz'ora in Vernizi fa tutto da solo. Guardate. È pressato da Pusceddu, però alla fine riesce a tirare. Pazzagli schiaffeggia in corner. Sul finire del primo tempo da Marchetti a Barbuti ma la rovesciata è fuori bersaglio. Al secondo minuto della ripresa l'Ascoli sciupa l'occasione migliore. Prima con Benedetti, poi con Carillo che spara alto. Al nono minuto Borgonovo pressato da Benedetti cade in area ma per l'arbitro è tutto regolare. Ancora Notari Stefano al ventitresimo entra in area, salta Trifunovice ma Pazzagli rimedia di piede. Infine alla mezz'ora Moz per Borgonovo ma il pallonetto di quest'ultimo è troppo alto. È tutto linea a Paolo Valente. Grazie Lucchini. Passiamola adesso a Franco Stripoli per il consueto minuto della Serie B. A te la linea Franco. Il Messina ha allungato il passo ma la giornata ha confermato le virtù di Cesena e Parma. Il Parma è riuscito a non perdere a Messina e questa non è impresa di poco conto. Il Cesena ha superato il Pisa, la squadra più in forma del momento, ottenendo l'ottava vittoria interna consecutiva ed il decimo risultato utile. La giornata ha rilanciato anche il Genua. Ancora sintomi di malessere accusano la Cremonese, quarta sconfitta consecutiva esterna ed il Pescara, terzo stop consecutivo fuori casa. Da segnalare i successi della Lazio e del Bari nel derby con il Lecce. Nella zona bassa della classifica continuano a lottare con Aldore, Taranto, Campobasso e Cagliari. Passiamo alle immagini. Vediamo subito il primo gol del Bari nel derby pugliese con il Lecce. Va sulla sinistra Laurieri, effettua il cross. C'è un'indecisione dei difensori leccesi e Bivi che manda la palla in rete. Siamo al diciottesimo del primo tempo. Nella ripresa, al quindicesimo, l'arbitro Lobello intravede in questa azione un fallo di un difensore barese e concede la massima punizione a Lecce che Barbas si fa parare da Pellicanò. Poi al quarantesesimo, forte raddoppia per il Bari. Passiamo a Genua. Cipriani realizza il terzo minuto di gioco, il primo gol del Genua. Poi nella ripresa, al ventottesimo, Marulla, dopo questa azione, riesce a depositare la palla in rete. Ed ora con le immagini siamo all'Olimpico. Primo magnifico gol di caso con questo pallone tagliato che batte Rampulla al trentacinquesimo del primo tempo. Poi nella ripresa raddoppia Marino. Sulla Serie B è tutto, linea a Paolo Valenti. A volte dalle gradinate degli stadi vengono delle brutte notizie. Finalmente ecco, diremmo, un sorriso, una notizia di cronaca rosa, proprio dalla tribuna di uno stadio di squadre professioniste dall'Umbria di Serie C2. Vediamo questo servizio veloce di Giampaolo Sburaglia. Questa coppia è stata già servita. Tutte queste persone invece attendono il loro turno. Stadio di Terni sono le 13 di oggi. Fra due ore la Ternana incontrerà il Francavilla. È una gara di cartello del girone C della C2, ma non è la partita a fare come sol dirsi notizia. Il presidente della Ternana, Domenico Migliucci, oggi ha invitato tutti a pranzo, compreso nel prezzo del biglietto, che per l'occasione era anche scontato del 25%, un pasto completo, tagliatelle, cotoletta, vino e dessert. Una iniziativa promozionale per la Ternana, che sta cercando di risalire la china, dieci anni fa era in Serie A, per il calcio soprattutto. A Terni, nonostante le vicissitudini della squadra nelle ultime stagioni, il pubblico non si è disaffezionato dal calcio. Ogni domenica, per partite di C2, sugli spalti di questo stadio ci sono sempre fra le 8 e le 10.000 persone. Potrebbero essere di più, dice però il presidente della Ternana, ed ecco la trovata dell'invito a pranzo per tutti i tifosi. Un modo per far sì che lo stadio sia quello che sempre dovrebbe essere, un luogo per incontrarsi, per stare insieme, senza disagi, ma anche senza paure. Un'idea velleitaria? Staremo a vedere. Oggi intanto quest'idea ha funzionato. Ultra scatenati e tifosi occasionali, si sono ritrovati insieme, senza problemi di convivenza, in un bel pomeriggio di sole. Poi a tutti come dessert è stata servita la torta della partita. Una torta con una ciliagina, Vincenzo D'Amico, l'ex laziale che gioca con la Ternana. Offre ancora ogni domenica saggi di grande bravura. Con lui il calcio è ancora uno spettacolo. E passiamo adesso ai risultati della Serie C1. Girone A, fuori casa, Reggiana Ancona 1-0, Cararese Monza 2-1, Centese Legnano 0-0, Padova Lucchese 1-0, Piacenza Fano 1-0, Prato Trento 0-0, Rimini Mantova 2-2, fuori casa Spallo Londinella 2-0, Viresciti Spezia 3-2, giocata ieri. Girone B, Barletta Locerina 2-1, Benevento Brindisi 2-1, Cosenza Campagna 3-0, Foggia Licata 3-0, Livorno Catanzaro 1-1, Regina Casertana 1-0, Serenitana Siena 1-1, Sorrento Martina 1-0, Teramo Monopoli 0-0. Concludiamo come sempre col rugby, pull Scudetto. Eccola. Serie di gamma Amatori Catania 31-22, Scavolini Petrarca ha vinto il Petrarca 15-13, Doco Parma 19-18, Delta Latcuso Roma 24-6, Eurobex IB-Maint 19-7, Blue Down Benetton ha vinto il Benetton 28-9. Cari amici, grazie dell'attenzione, arrivederci e risentirci a domenica prossima. e Grazie a tutti. Grazie a tutti.